Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Fratelli e sorelle, ogni anno la Chiesa Nostra Madre ci offre la possibilità di vivere un piccolo tempo ordinario prima del tempo di Quaresima per mettere in pratica tutto ciò che abbiamo imparato nei tempi dell'Avvento e di Natale. Oggi siamo alla quarta domenica di questo tempo ordinario. Fratelli e sorelle, gli spunti di riflessione suggeriti dalla parola di Dio di questa quarta domenica del tempo ordinario sono molti. Il primo aspetto richiamato dalla prima lettura e dal Vangelo riguarda la professia. Il profeta è la bocca di Dio. Dio parla per mezzo di lui. Qui viene promesso un profeta e il profeta è Gesù, il Messia, che porta a tutti i popoli la parola definitiva della liberazione. E quella parola la porta con autorità. Il Vangelo ci presenta Gesù che insegna, entra nella sinagoga di sabato, si mette a insegnare come altre volte insegna nel tempio o lungo la strada o sul monte. Erano stupiti del suo insegnamento perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. fratelli e sorelle, possiamo farci delle domande. Dove sta l'autorevolezza di Gesù? Perché la gente avverte questo? Perché la sua parola è certa, sicura? È una parola che convince? È semplice. È perché Gesù conosce la verità, la verità della vita, la verità di Dio, la verità dell'uomo, il senso vero delle cose. In secondo luogo perché quello che dice prima lo vive, lo vive sempre. Gesù è coerente. Inoltre, quando parla, non ha degli interessi particolari per sé, ma ama. Ha la compassione delle persone e delle folle. Lui si fa servo della loro vita, dona tutto sé stesso e anche la potenza del suo amore quando incontra. Gesù è davvero il maestro che parla al cuore e alla vita di ciascuno. Egli guarda i problemi veri delle persone. È il buon pastore che conduce sulla strada della verità. Lui è il solo che ha avuto il coraggio di dire io sono la vita, la verità e la via, senza paura di essere smentito. Fratelli e sorelle, siamo felici di avere come maestro di vita il Signore Gesù? Ci lasciamo illuminare, amaestrare, insegnare da Lui? Ci lasciamo guarire nonostante tutte le resistenze che proviamo come il malato del Vangelo? Lo scopo del Vangelo di Marco è anche quello di mostrare che Gesù è il Messia atteso, che parla e opera, insegna e guarisce. Il Vangelo ci presenta Gesù alle prese e anche con un indemoniato. Lo spirito immondo, dinanzi all'insegnamento di Gesù, reagisce con forza e grida. Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. È significativa questa frase perché mostra chi è l'indemoniato. È uno che è diviso, che preferisce la menzogna alla verità. Egli confessa in modo corretto che Gesù è il Santo di Dio, ma non vuole avere niente a che fare con lui. La vera tentazione del cristiano di oggi, anche per chi frequenta la Chiesa, è quella di professare la fede in un Dio che poi non entra nella vita. Un Dio riconosciuto solo a parole, ma a cui non si aderisce con tutta la vita. È il vivere doppio, è il vivere nella menzogna. La menzogna è divisione, inganno, imbroglio. Allora è necessario metterla a tacere. In queste situazioni il Signore pone davanti a noi il suo amore e ci guarda negli occhi. Allora scopriamo la consolante verità che Egli c'entra con noi perché ci cerca, ci ama, ci libera, proprio come ha liberato l'indemoniato. Gesù ci liberi di tutto ciò che impedisce di essere veri cristiani secondo il cuore di Dio. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.